Eredita, 1912, la festa patronale è ormai alle porte. Un furto scuote il piccolo borgo cilentano, il tesoro di San Giovanni è sparito. Due amici, in anonimato, indagano tra nobili, contadini, gente comune, per recuperare il tesoro. Scopriranno che la loro vita è in pericolo. Oltre ai ladri, nella vicenda si nascondono corrotti e assassini. Scopriranno che la loro vita è in pericolo. Scopriranno che la loro vita è in pericolo. Scopriranno che la loro vita è in pericolo. Grazie a tutti